Dopo Ravenna un peccato per com'è andata? Sicuramente abbiamo disputato un buon primo tempo, poi dopo una volta preso il gol eravamo in nove uomini, dopo l'espulsione di Pierotti, l'infortunio anche sul gol nostro dopo il pareggio di Marco Pomante, chiaramente abbiamo subito il 2-1 e poi lì diciamo che la partita è finita. Però ci sta sempre da vedere il bicchiere mezzo pieno e io credo che la squadra ha dimostrato grande carattere, grande determinazione, ci può stare una sconfitta davvero, quindi bisogna ripartire subito. E' andato, possiamo fare un punto sull'andamento di questo giro in andata? All'inizio è normale che abbiamo avuto delle difficoltà le prime quattro partite, poi una volta che è arrivato mister Papagni diciamo che abbiamo tracciato la strada giusta per arrivare al nostro obiettivo. Codaterni comincia un girone di ritorno che vedrà 9 partite fuori casa e 8 in casa, quindi sarà fondamentale cominciare a fare più punti in trasferta visto che finora solo due pareggi sono arrivati? Indubbiamente, però noi dobbiamo guardare il girone di ritorno per fare i punti possibili più presto e per raggiungere la salvezza più presto, quindi sia in casa che fuori casa dobbiamo dare il massimo per raggiungere appunto a più presto questa salvezza, il nostro obiettivo. Grazie per la sicchia e per il giro di buona parte. Grazie per la visione!